Ben ritrovati con l'ultimo appuntamento di Galoppo per questa edizione 2018 all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Sono ben otto le corse in programma sabato 29 e dalle ore 14 e 20 in poi quando scatterà il premio Tommy Way. La corsa più importante è la quinta, una condizionata riservata ai tre anni oltre sui 1800 metri in pista sabbia. Il premio Teofane sono sette al via, guardiamo il campo partenti dove specialisti della sabbia potrebbero presentarsi puntuali Special Rush e Playful Dude. Attenzione anche ad Atantic Avenue, prova Siracusa ma ha avuto già un primo contatto a Roma con lo stesso specialista Special Rush quindi potrebbe subito adattarsi su pista. Cambiano tracciato, allegro, duque delle rose e taken up mentre Sir Fortress, reduce da successo, potrebbe sicuramente essere una valida alternativa per le piazze. Proviamo a sentire qualche addetto ai lavori, ci affidiamo a mister Salvo Gianni che è presente al numero 5 dello schieramento. Ci proviamo con Sir Fortress? Il cavallo sta benissimo, viene da un primo posto e la sabbia gli gloppa molto bene. Quindi è la prima favorita rispetto a chi? Special Rush e Playful Duk. Perché questo scelto? Sono due cavalli che gli corrono bene sulla sabbia, Special Rush è molto conosciuto e saranno loro a combattere questa corsa. La sorpresa chi potrebbe essere in questa corsa? Duk delle Rosse. Altra corsa di importanza per Montepremi è il premio Tirac, la settima corsa ai due anni impegnati sui 1500 metri in pista grande. Un handicap discendente difficile da pronosticare, ci sono diverse linee al confronto. Partiamo dall'alto dove Alba Di Domani e Belingar si sono incontrate ma hanno fatto meglio sicuramente su una distanza più breve, adesso allungano entrambe. Ancora Charming Firli invece che si è dimostrata capace di vincere sui 1400 metri e tira in linea con lui. Anche Mitrandir ancora ha attenzione alla linea tracciata da Mr. Guerrieri con Agent Bond, sul milio hanno fatto bene, potrebbero peraltro sfruttare la perizia. Poi c'è Madame Annabel che ancora non ha fatto, non ha dimostrato nulla in questo periodo, se non è tante speranze nutrite perché possa mostrare tutti i suoi buoni mezzi. Affidiamoci ai pronostici, ancora una volta sentiamo Salvo Gianni impegnato su Charming Firli e Gabriele Cannarella che invece è impegnato con il numero 2 di Belingar. Charming Firli è l'ultima uscita a Vindo, sta molto bene e ci credo tanto in questa corsa. Dobbiamo vedere il campo partente, anche qui sono i due anni sui 1500 metri. Dico i primi due cavalli, Alba di Domani e Belingar, perché sono due cavalli che hanno vinto in questa distanza e sono loro. Guarda, Belingar sta correndo bene, allunghiamo un po' la distanza, crediamo che la cavalla si ci adatti. L'unica cosa è pista grande, però la cavalla sta bene, quindi ci proviamo. Insieme? Mi piace Alba di Domani anche se è un filino lunga e poi scarico Midrandir. L'apertura del convegno di sabato 29 è l'ippodromo del Mediterraneo per il Galoppo e affidata al premio Tommy Way, un handicap discendente sui 2100 metri in pista piccola dove i protagonisti sono tre anni e oltre. La linea dettata da Casalecchio vale di più degli altri, insieme con Osotaci anche pesantissimo sempre per una piazza e con un Dico niente che spera di migliorare. Buona piazza ha ottenuto anche Orogan Gris nell'ultima sua performance, potrebbe essere della partita più arduo il compito del numero 5 dello schieramento. Sentiamo allora Salvo Gianni su Dico niente. Allora c'è un'ottima forma, ha corso la settimana scorsa, mi ha tornato molto bene a scuderia, sto ricorrendo, ho visto una corsa che c'erano 5 partenti, vediamo come viene. Guardiamo questi 5 partenti, chi sono quelli che stanno meglio? Osotaci e Casalecchio. Il Casalecchio è l'ultimo alla vinda e Osotaci è secondo l'ultima uscita, nonostante c'è tutti i 66 kg. La seconda corsa è il premio Swing Fire, 1900 metri in pista sabbia per i tre anni oltre, un handicap discendente dove una linea vale più degli altri, vale off-cause che si è ben comportata sul tracciato, ancora tirando dietro con sé sia Chumbalic che Sherry Chops che restano varie alternative. Attenzione a James Re Quinta, rientrata a quarta a vendere può adesso migliorare. Sentiamo appunto Gabriele Cannarella impegnato con Chumbalicca. Io non l'ho montato mai, è la prima volta che l'ho montato, però ho visto che ho corso sempre sulla sabbia, 1900, 1800, 2000, quindi l'ultima volta è quarto, non lo conosco ancora. Le alternative? Mi piace tanto come ha corso Wall of Chaos che ha perso da quello di Fontana, ha corso benissimo, quindi mi piace lui e Scarichop. La terza corsa è affidata ai due anni che devono confrontarsi sui 1400 metri in pista piccola, il premio San Paolo è un handicap discendente che affida il peso maggiore al top weight Grand Trip, più qualitativo ha affrontato categorie maggiori ottenendo qualche risultato. Più rodati sembrerebbero Everardo e Flying Hart che hanno fatto vedere qualcosina in più, attenzione anche a Morsiv che invece viene da Milano e a Siracusa ha fatto sesto, potrebbe essere dichiarato in progresso. Ha fatto vedere qualche cosina anche Flash Brown, il numero 6 dello schieramento, ma poi non si è confermato nelle ulteriori sue performance. Una corsa comunque aperta a tante possibili sorprese. Proviamo a chiedere a Salvo Gianni che è presente il numero 4 dello schieramento. Fai anche il corso bene e qui in da, sto provando a ricorrere di nuovo perché la corsa sta benissimo. Difficile sempre il pronostico dei due anni sui 1400 metri, chi tra questi? Tra questi mi piace molto Everardo, Everardo l'ottimolta è due secondi, sono terzo, sono arrivati molto vicini, spero che quello sarà Everardo. E poi Grand Trip. La quarta corsa è una vendere sui 1200 metri in pista piccola per i tre anni oltre. Guardiamoci il campo per tanti che schiera a 7 al via, Alp 2 è orientata con un bel quarto posto, potrebbe migliorare. La valida alternativa o la base della corsa potrebbe essere però, Kemet Gray in questa categoria può far bene. Attenzione a Faro e a Wild Acclaim. Il numero 3 è il numero 7 dello schieramento che provano Siracusa, non con poche speranze. Small but fast è comunque parte di questa categoria, quindi può esprimersi bene. Due corse in carriera per Tawed che deve ancora dimostrare. Venna Reci che scende sicuramente di categoria, pare valida alternativa a questi, quindi potrebbe far bene. Chiediamolo direttamente a Gabriele Cannarella. Sei sopra Venna Reci, un cavallo che a Siracusa era attesissimo, ha fatto qualcosa poi? Sì, l'ultima volta è quarto al criterium dei Fantini, ha corso bene, scende di categoria, corre a vendere. C'è sempre da battere con Mette Gray che su queste categorie è un buon collo. Insieme a? Insieme a Alp 2, che è rientrato la settimana scorsa, se è pronta può lottare. La sesta corsa Duke of Marmalade, un handicap discendente sui 1500 metri in pista grande per i tre anni e oltre. Sono sette soggetti al via. Apre la scala pesi con 64,5 kg e il buon M. Blu Amois, alterno ma con questi può fare bene. Killaki Blake rientra da novembre dove non aveva lasciato però un buon ricordo. Intenzionato stand nel periodo a Piero è caratteriale. Se entra nelle gabbie e corre può fare comunque bene. De Noboli e Infinity Power sono in regresso. L'Aki approva il chissà se è pronto a togliersi questo quarto posto da dosso che appunto già è stato conseguito due volte. Insomma, i numeri più alti sembrerebbero quelli più importanti ma vediamo cosa dice Gabriele Cannarella. Guarda, Infinity Power ricorre una settimana, l'ultima volta ha corso male sulla sabbia. Lo riproponiamo in erba, a pista grande lui è la seconda volta che l'ha affrontata, l'ha affrontata tempo fa e ci ha corso male. Ci riproviamo, una sorpresa. Sette al via, chi tra questi? Piace il numero uno è Blu Amois e a Piero. Sorpresa? Sorpresa e Infinity Power. L'ultima corsa che pronostichiamo è l'ottava con il premio Thanks to Team. Handicap discendente sui 1700 metri in pista grande e queste volte i protagonisti sono i tre anni. Sono otto al via. Ebenet Scrooge apre con il numero uno la scala pesi, è un duttile su tutte le diverse distanze, esprime buona forma, quindi ci sta. In progresso è dato anche il numero due di Progressive Jets. Attenzione a Kiss Me Quiet e Ormixa, che Ormixa non corre dal primo di dicembre, però aveva fatto vedere buona linea proprio con Kiss Me Quiet, quindi potrebbero essere loro le basi. Poi c'è Maddamento sempre regolare, Sunfair, prova Siracusa per la prima volta è un cavallo delle lunghe distanze. Polar Suite e Garden Jets pagano già queste compagnie e devono comunque venire parecchio avanti. Proviamo a sentire allora Gabriele Cannarella impegnato con Maddamento. Maddamento è una colla che corre sempre bene, non trovo mai la vittoria, speriamo adesso che ritorna sull'erba a pista grande a 1.700 la trovi, è uno dei primi favoriti. Insieme a chi? Mi piace bene Zer Scrooge e Kiss Me Quiet. Sorpresa? Sorpresa Progressive Jets. E da Siracusa con il galoppo che scenderà in pista per l'ultima volta nell'edizione 2018, sabato 29 alle ore 14.20 e tutti, vi rimando all'appuntamento con la nostra Ippica. Buon fine anno e rivederci.